E' stata strangolata con un fulare stretto intorno al collo, sorpresa probabilmente alle spalle dal marito che poi avrebbe trascinato il corpo della moglie in camera da letto e quanto emerge dall'autopsia effettuata sul cadavere di Rita Talamelli, 66 anni, uccisa lunedì sera nell'abitazione di via Montefeltro a Fano dal marito Angelo Sfuggiti, 70 anni. L'uomo, dopo aver commesso l'omicidio, ha poi cercato di suicidarsi ingerendo dei barbiturici. Nonostante l'intossicazione, è stato trasportato in tempo all'ospedale Santa Croce con l'ambulanza. E' fuori pericolo, piantonato in ospedale dalla polizia. Non è ancora in grado di parlare e non ha partecipato all'udienza di convalida dell'arresto. E' accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare. Il pubblico ministero ha chiesto la misura cautelare del carcere, mentre il legale delle settantenne ha chiesto una misura più tenue, rimarcando l'assenza della possibilità di reiterazione del reato, le condizioni di salute dell'omicida e la specificità del fatto maturato in una circostanza complicata. Il giudice si è ricervato alla decisione, che si conoscerà nelle prossime ore. Nei prossimi giorni verrà fissato l'interrogatorio di garanzia, momento in cui Angelo potrà fornire la sua versione dei fatti, chiariendo anche il movente. Non si esclude che l'omicidio possa essere maturato al termine di una lite tra i coniugi. A dare l'allarme lunedì sera, uno dei due figli della coppia, arrivato nell'abitazione dei genitori preoccupato, in quanto avrebbe tentato in vano di mettersi in contatto con il padre. Rita era stata colpita anni fa da un aneurisma, dal quale non si era pienamente ripresa sul piano neurologico ed era degradato nel tempo in una malattia psichiatrica. La prolungata assistenza alla moglie, svolta con generosità anticipando anche l'uscita dal lavoro, aveva generato una sofferenza psicologica nella vita di sfuggiti, il quale aveva già tentato di suicidarsi. La condizione di precarietà dei coniugi era conosciuta dal centro di salute mentale dell'AST, secondo quanto ha testimoniato il figlio che ha scoperto l'orrore nella camera da letto dei genitori.